L'ennesima delusione sentimentale per Valeria Marini, la sua storia d'amore con l'onorevole Jimmy Cangiano è giunta al termine. La relazione, nata la scorsa estate, si è conclusa dopo pochi mesi di intensa passione. La notizia è stata confermata dall'onorevole Cangiano in una dichiarazione rilasciata all'inviato di Striscia la Notizia, Enrico Lucci, in cui ha affermato, sono una persona single. Ma le sorprese non finiscono qui. Quindi, secondo quanto riportato da Dagospia, sembra che l'onorevole Cangiano abbia già voltato pagina. Le voci indicano che il deputato avrebbe iniziato a frequentare un'altra donna, niente meno che l'ex Miss Italia Danny Mendez. Quest'ultima si è separata di recente dal produttore cinematografico Oscar Generale, dal quale ha avuto la figlia indiana Yara. La notizia della fine della relazione con Valeria Marini e del presunto coinvolgimento con Danny Mendez ha scatenato l'interesse dei media e dei fan, che ora sono in attesa di ulteriori dettagli e conferme da parte dei diretti interessati. La vita sentimentale della subret Valeria Marini sembra essere nuovamente oggetto di speculazioni e sorprese, mentre l'onorevole Jimmy Cangiano intraprende un nuovo capitolo della sua vita amorosa con la ex Miss Italia. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi in questa intricata vicenda amorosa.